Una folla di giovanissimi, un mare di lacrime e tanta commozione a Petrizi nel Catanzarese nella chiesa di Santa Maria per i funerali di Leandro Celia, il tredicenne, morto dopo esser stato travolto da un treno mercoledì pomeriggio assoverato mentre stava attraversando assieme a due compagni un tratto di ferrovia ionica. Le esegue sono state celebrate da Don Gregorio Montillo, vicario dell'Arcivescovo Metropolita di Catanzaro Squillace. Durante la celebrazione religiosa una compagna di classe del ragazzo che frequentava la scuola media Ugo Foscolo ha letto un tema scritto da Leandro. E' intervenuto anche Don Gino Martucci dei Salesiani di Soverato che si è rivolto a tutti i giovani presenti invitandoli a riflettere sull'importanza e sul valore della vita. All'uscita della bara bianca, coperta di fiori, centinaia di palloncini bianchi e azzurri sono stati lanciati in cielo. Il corteo è proseguito fino al cimitero di Petrizi. Qualche ora prima nella mattinata il medico legale nominato dalla procura di Catanzaro aveva terminato l'esame esterno del ragazzo.